cari amici della finanza sul web ben trovati in questa nuova puntata del terremoto ed è proprio un terremoto quello che c'è stato nella politica francese ma anche nella politica italiana cominciamo con la francia a pochissimi a pochissime settimane dalla vittoria seppur di misura seppur nel nome del blocco contro le pen e seppure con una stenzione altissima ma comunque vittoria a pochi giorni dalla vittoria delle presidenziali di macron il candidato francese del sistema ottiene una sconfitta abbastanza clamorosa nelle elezioni legislative quelle che devono nominare il parlamento francese il suo partito ensemble insieme si è fermato ha perso la maggioranza assoluta che aveva nella prima nella scorsa legislatura e si è fermato a 245 seggi la maggioranza è 289 quindi molto al di sotto di questa di questa soglia c'è stata un'affermazione molto netta del partito della sinistra radicale così viene chiamato di melanchon che ha ottenuto circa 130 voti e una impennata clamorosa della le pen che passa da 8 a 89 seggi quindi ci sono poi come ultima forza diciamo così di una certa consistenza le repubblicane che sono una sorta di destra che è a metà strada tra forza italia e la meloni se vogliamo paragonarla al contesto italiano che prende una sessantina di seggi morale della favola macron non avrà la maggioranza e questo significa che tutte quelle riforme tutte quelle quei cambiamenti nell'ordine del del great reset del nuovo ordine mondiale come il taglio delle pensioni la conversione ecologica eccetera saranno molto molto difficili da realizzare per macron ma soprattutto il colpo è durissimo sulla rappresentatività del presidente perché il la stensione è stata altissima oltre il 50 per cento degli elettori francesi ha scelto di non votare perché evidentemente non si sente minimamente rappresentato da nessuna delle forze che si sono presentate alle elezioni di quel meno del 50 per cento quindi di quella metà che invece ha votato la maggioranza relativa ha votato per forze cosiddette antisistema e profondamente ostili a macron quindi in buona sostanza il macronismo che è diciamo il quella traduzione politica del votere dell'élite ha ottenuto conti alla mano il voto di appena il 20 per cento degli aventi diritto in francia un numero bassissimo che dimostra come di fatto in francia come in italia non ci sia il consenso rispetto al sistema che ci governa noi abbiamo avuto una serie di incendi cosiddetti antisistema negli anni scorsi la brexit l'elezione di donald trump i gialloverdi in italia questi incendi sono stati spenti non attraverso un coinvolgimento una trasformazione della visione di quel popolo che votava contro il sistema e quindi un rientro di della maggioranza dei cittadini all'interno del diciamo del racconto della narrazione e del voto pro sistema no semplicemente con misure di palazzo con una serie di azioni con una serie di strategie che puntavano semplicemente a silenziare a neutralizzare il dissenso senza però creare le condizioni per un suo riassorbimento e quello che hai cacciato dalla dalla porta ti rientra dalla finestra macron non avrà la maggioranza ma questa situazione è destinata ad aggravarsi ulteriormente perché la guerra è un uno spartiacque potentissimo se voi noi consideriamo che tanto macron e tanto melanchon quanto la le pen sono fondamentalmente contrari al coinvolgimento della francia nella guerra della nato contro la russia e che la somma dei due è maggiore rispetto alla somma delle forze belligeranti cioè di quei partiti che appoggiano la guerra della nato cioè il partito di macron e le repubblican questo è molto indicativo ma siamo appena all'inizio perché ancora si iniziano solo a intravedere gli effetti devastanti sulla società europea di questa guerra quindi è assolutamente realistico pensare che il tempo gioca contro macron e contro il partiti governisti pro sistema la stessa situazione la vediamo in italia in italia il movimento 5 stelle e la lega si sono presentati su posizioni assolutamente di rottura con il sistema contro l'euro contro l'europa contro i banchieri eccetera eccetera e hanno ottenuto una vittoria schiacciante successivamente hanno cambiato posizioni ma questo non ha modificato l'orientamento del popolo dell'elettorato i voti antisistema continuano ad essere molti di più di quelli pro sistema dove sono andati quei voti in italia principalmente alla meloni e alla stensione ma di sicuro non al sistema il pd e forza italia che sono diciamo il perno continuano ad essere largamente minoritari hanno il 30 per cento sommati non arrivano al 30 per cento dei voti ma questo appunto al netto di una stensione enorme quindi anche qui parliamo di una percentuale dei cittadini che oscilla tra il 15 e il 25 per cento che sono a favore dell'attuale sistema economico sistema politico della della nato della situazione del paese all'interno delle alleanze internazionali tutti gli altri invece non si rivedono in in questo in questo schema e da qui c'è il diciamo il l'instabilità all'interno delle forze di governo perché il movimento 5 stelle ha capito che sta per fare la fine del tacchino durante la festa del ringraziamento il movimento 5 stelle si è alleato con il pd e si è trasformato si è riciclato da forza rivoluzionari antisistema a forza conservatrice prosistema che cosa ha portato questo alla scomparsa non delle istanze antisistema ma del movimento 5 stelle in base a un antico adagio che dice che i popoli possono scegliere di cambiare governante ma i governanti non possono scegliersi altri popoli e il voto alle elezioni amministrative ha segnato un disastro senza precedenti per il 5 stelle il 2 e 1 per cento non esiste nella storia della repubblica italiana il caso di un partito che arrivi al 33 per cento super il 33 per cento con un certo orientamento politico e dopo crolli a livello da partitino dei pensionati o altri altri partitini irrilevanti nell'arco di pochissimo tempo abbracciando una politica diametralmente opposta da quella con cui aveva stravinto le elezioni ma la situazione inizia visto che le elezioni sono prossime a preoccupare i big da qui la scelta di conte di mettersi di traverso nel governo draghi su un tema importantissimo l'invio di armi all'ucraina siccome la maggioranza dei cittadini italiani è contraria a questo invio soprattutto nelle fasce popolari che votavano il 5 stelle conte ha avuto l'obbligo diciamo di rappresentare in qualche modo quelle istanze primo perché sono maggioritarie secondo perché non c'è nessun partito che lo faccia e quindi per riconquistare voti è andato su quella linea provocando la rottura con di maio ormai uomo del sistema da fare invidi a letta è prevedibile quindi un'ulteriore scissione del movimento 5 stelle la sua definitiva scomparsa dal panorama politico italiano ma questo rende molto più difficile per il sistema trovare una quadra che possa garantire una forma di governabilità una parvenza di democrazia ma il mantenimento di tutte di tutti quei vincoli di tutte quelle posizioni che i cittadini italiani non vogliono ma che il deep state ha imposto negli ultimi decenni quindi l'unione europea l'euro il modello liberista la nato eccetera quindi il il sistema tanto in italia quanto in francia sta entrando in una crisi profondissima per mancanza di sostegno democratico questo da un lato è una buona notizia dall'altro è un atto di accusa per noi visto che non siamo stati ancora in grado di proporre una un contenitore politico una forza politica che possa essere credibile e accogliere questa enorme massa questa schiacciante maggioranza che chiede un'inversione di rotta su tutto quello che è stato fatto negli ultimi decenni ma la situazione è destinata anche in italia a peggiorare drammaticamente ora già si inizia a parlare di prime forme di razionamento del gas ancora si dice che è solamente uno stato di preallarme eccetera ma in ogni caso l'impatto dal punto di vista economico e sociale della guerra sarà letteralmente devastante e questo travolgerà questi questi governi che sono debolissimi perché sono governi che si basano non sull'appoggio del dei cittadini ma fondamentalmente sono autoreferenziali e si basano diciamo sul sul non attacco cioè sulla passività della maggioranza dei cittadini macron sa benissimo che più di un francese su due non è andato a votare e che tutti quei francesi sono contrari alle sue politiche sa benissimo che a maggior ragione lo sono quelli che invece a votare ci sono andati ma sono andati per a votare i suoi nemici quindi è consapevole di che le sue istanze le sue politiche la sua ideologia è largamente minoritaria ma l'atteggiamento passivo della maggioranza dell'elettorato gli consente come consente al pd in qualche modo di mantenere il potere la crisi sociale ed economica è destinata a trasformare la sfiducia passiva della grande maggioranza dei cittadini in un attacco attivo alle forze politiche e di conseguenza il mantenimento del modello democratico da un lato del della stabilità dei governi e della partecipazione di italia francia e altri paesi europei alla guerra è un rebus che risulta sempre più improbabile cioè sarà sempre più difficile e in prospettiva impossibile conciliare queste tre esigenze quindi o si o gli stati europei abbandonano la guerra della nato oppure abbandonano la democrazia altre ipotesi non mi sembrano sul tavolo se credi nell'informazione libera e vuoi sostenere il nostro canale va in descrizione e troverai tutti i link per dare il tuo contributo